I servizi segreti interni della Germania hanno scoperto una talpa che passava informazioni a cellule del terrorismo islamico, secondo le rivelazioni del settimanale Der Spiegel e del quotidiano Die Welt. L'uomo, un tedesco di 51 anni che lavorava come infiltrato negli ambienti dell'estremismo islamico, avrebbe pianificato un attentato alla sede centrale dei servizi segreti a Colonia. L'equivalente tedesco dell'italiana agenzia di informazione e sicurezza interna, l'AISI, ha emesso un breve comunicato in cui si dichiara che un presunto estremista islamico è stato smascherato tra i suoi collaboratori. Secondo le notizie di stampa, il sospetto aveva cominciato a collaborare con i servizi ad aprile, si sarebbe convertito all'islam due anni fa. Durante l'interrogatorio avrebbe riconosciuto i reati contestati, si trova al momento in detenzione, ma la procura di Düsseldorf, incaricata degli affari di terrorismo, non ha ancora aperto un fascicolo di inchiesta.